Ehi, ciao a tutti amici di YouTube! Ed eccoci qua di nuovo con un secondo unboxing, questo è un unboxing venuto sempre da un privato, ringrazio Marco per questo unboxing e andiamo subito a vedere cosa ci ha mandato. Allora, l'apertura è qua, ho preso dal privato perché mi serviva, adesso lo vedrete, una cosa veramente importante. Mmm, carta da giornale. Imballaggio, imballaggio e qui ci deve essere la nostra roba senza stare a rompere. Imballaggio, imballaggio e qui ci deve essere la nostra roba senza stare a rompere. Queste, boh, non so dove andrò ad attaccarle, magari nell'elmetto, tipo una qui che ci sta e l'altra magari dall'altra parte. Poi, poi ci ritroviamo una batteria lipo, semplice da 7.4 volt perché la mia si era fulminata, se non per dire incendiata. No, vabbè, adesso non è che esplosa, però, insomma, non funzionava più, quindi l'ho presa da lui, che ne aveva un in più e adesso la proviamo per vedere quanto resiste. E poi, due caricatori in metallo monofilari, molto belli. Niente ragazzi, questo era un breve unboxing, niente di che, e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.